salve amiche ed amici ho provato adesso a filmarmi senza luce sono le 20 le 8 di sera però si vedevano solo le luci dell'albero come è successo nell'ultimo video e quindi e quindi niente vi faccio i miei più vivi auguri per un prospero e felice natale o però però felice natale quello è l'anno nuovo vi saluto tutti perché è successo che nell'ultimo video penultimo che ho caricato ho canticchiato il jingle di natale e youtube è molto pignolo in questi queste questioni quindi non so forse me lo faranno le varie infatti io l'ho ritagliato l'ho ripresentato in una seconda versione se mi fanno togliere l'anteriore dove non c'è più il jingle che io cantavo che lo canta tutto il mondo ma adesso non lo canterò più manco quando non mi filmano però dicevo ho fatto ho canticchiato il jingle e mi hanno detto che c'è una coincidenza non hanno detto che ho violato i diritti d'autori ancora ma insomma non si può neanche cantare un giga e adesso va bene e neanche fare la melodia perché sennò coincidenza magari non so che farei una pernacchia altre coincidenza ma orbo bando alle ciance un saluto di nuovo a tutti mimo corcione lo viola laura pezzino massimiliano di venanzio poi marina pandolfi e soprattutto a te marco travaglio ti mando i miei migliori auguri di buon natale poi mi raccomando se ti sei un collaboratore per il tuo fatto quotidiano fammelo sapere quest'anno noi abbiamo avuto tante spese non ci siamo potuti fare un regalo ma almeno l'albero ci avrà tutti il nostro amore e buoni propositi che anche una cosa che vi manda a tutti voi che mi seguite e a tutti voi che commentate nel mio canale adesso non mi ricordo tutti quelli che mi seguono mi scuso però un saluto a tutti voi pronto farò nuovi video e niente faccio questo video mandandovi i miei migliori auguri per un felice natale nel caso mi fanno alzare quell'altro video che ho editato che io cattichiamo il jingle famoso così almeno rimarranno degli auguri per tutti voi niente e allora buon natale manca ancora poco io l'albero l'ho fatto da più di un mese stiamo a 7 8 quindi una ventina di giorni 25 e 27 giorni non è molto io altre volte già mi preparavo prima di dicembre adesso sento che dicembre mi è caduto addosso questa mattina ha fatto una tempesta di pioggia e poi adesso invece è passato il cielo è abbastanza sereno con dei giochi di nuvole quella beh allora vi lascio vi farò altri video magari vi rifarò gli auguri di natale prima di natale stiamo in contatto in ascolto ciao a tutti voi e vi lascio con l'alberello buon natale ciao a tutti 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 ciao a tutti